Le imprese devono acquisire quelle conoscenze per fare impresa in modo ottimale. Certo, questo bisogna veramente partire dalle origini. Dalle origini significa dagli studi, significa dagli studi universitari. E devo dire, questo noi lo stiamo facendo come Basilicata. L'Università degli Studi Basilicata è un'ottima università, ha delle ottime facoltà e da un livello di formazione alta. E quello che noi stiamo facendo è proprio quello di mettere insieme tutti questi attori locali, quindi università, regione, sviluppo Basilicata e associazioni di categoria, perché insieme fare squadra, fare sistema per aiutare le imprese a fare questo. Quindi l'impresa si deve aspettare questo, che tutti questi soggetti si mettano insieme a disposizione dei giovani e dei nuovi imprenditori o imprese già esistenti. Questo l'impresa si deve aspettare da noi, di fare esistenti. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!